Un caro saluto da Mario Giuliacci, il tempo previsto per domenica 22 settembre. Anticiclone nordafricano debole sulle regioni meridionali, mentre sul centro nord dell'Italia arriva una perturbazione atlantica dal nord della Spagna, la quale porterà dapprima rovesce temporali, come si può vedere da questa figura, soprattutto sul Piemonte e sulla Liguria, questo al mattino, al pomeriggio ancora rovesce temporali su tutto il nord, tranne il Triveneto, sulla Toscana, l'Umbria e il Lazio, nella sera rovesce temporali ancora su Triveneto, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, interno dell'Abruzzo e del Molise. Le temperature scenderanno decisamente, soprattutto sulle regioni di nord-ovest, dove le temperature massime raggiungeranno valori tra 18 e 20 gradi, roba da freddo insomma. Sul resto del nord temperature inferiori a 25 gradi, sulle regioni centrali temperature tra 22 e 25 gradi, 26 e 28 gradi solo sulla Puglia e sulla Sicilia, 27 e 30 sull'interno della Sardegna, appunto per la presenza dell'Africano. Bene, vi ricordo di scaricare dall'home page del nostro sito la nostra app, che è molto semplice da usare. Grazie. Grazie.